Il presepe di Piazza Unità, anche quest'anno, vittima di uno scempio. Sbriciolato il muso della pecorella, probabilmente con una pietra. A segnalarlo sui social è stato l'assessore comunale al turismo, Maurizio Bucci. Probabilmente, come al solito, si potrebbe trattare dell'ennesimo episodio di vandalismo. D'altronde non è una novità. Ogni anno, più o meno, capita un gesto analogo. I danni al presepe di Piazza Unità sono un classico. Ormai un appuntamento annuale, a partire dal 2011, quando qualcuno, subito dopo il 25 dicembre, aveva deciso di rubare una pecore e rovinare San Giuseppe, poi sostituito. Nel 2014, quando tutto sembrava andare liscio, la decapitazione sempre del povero Giuseppe, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. L'anno dopo ancora, la testa di una pecora, che andò in frantumi. E infine l'anno scorso, qualcuno aveva scritto con un pennarello sulla statua della Madonna. In questo caso, come affermato anche stamattina a Sveglia Trieste, Bucci avrebbe confermato che sul posto ci sarebbero due telecamere che dovrebbero aver ripreso il gesto e verrà fatta una verifica nei prossimi giorni. Sono situazioni che amareggiano, che senso ha a fare un gesto di questo tipo. Io spero con tutto il cuore trattasi di ragazzaci che girano la sera e non sanno cosa fare e che non sia un'azione di, come dire, non dico politica, ma insomma una contrapposizione allo spirito del presepe che molto spesso sentiamo in questo periodo. Diciamo che la piazza Unità, chissà se chi l'ha fatto ci ascolta, abbiamo ben due telecamere. Una sull'angolo, una al centro della piazza, con la collaborazione del collega Polidori insieme al centro radio, analizzeremo le immagini, speriamo di identificarlo. E poi, insomma, io credo che i tristini preferirebbero come punizione e metterlo nella casetta per tutto il periodo natalizio, al posto della pecora, seduto lì al posto della pecora, sarebbe la miglior polizione possibile, ma non si può fare.